6.000 ragazzini di età, razze e lingue diverse, accomunati da un talento unico, un dono che da secoli mettono a servizio di Dio e della Chiesa, animando celebrazioni solenni in tutto il mondo, pregando per la pace. Sono i Pueri Cantores, arrivati a Roma per il loro quarantesimo congresso internazionale, culminato il 31 dicembre in aula Paolo VI con l'abbraccio di Papa Francesco, un'udienza gioiosa e familiare durante la quale i piccoli hanno rivolto al pontefice alcune domande curiose e personali. Che cosa pensa del nostro canto? Le piace cantare? Il Papa racconta loro il suo amore per la musica, cominciato fin da bambino, quando con la mamma regina e i suoi fratelli passava il sabato pomeriggio davanti la radio ed ascoltare l'opera, anche se ammette di non aver mai avuto doti particolari in questo senso e poi sottolinea l'importanza del canto, uno strumento che educa, fa bene all'anima, importante per ogni cristiano. Sant'Agostino dice una frase molto bella. Ognuno di voi deve impararla nella sua lingua, nella sua propria lingua. Parlando della vita cristiana, della gioia della vita cristiana, cristiana dice così, canta e cammina. La vita cristiana è un cammino, ma non è un cammino triste, è un cammino gioioso e per questo canta. Altro tema grande che incuriosisce i bambini è la bontà. Per questo gli chiedono come riesca a non arrabbiarsi mai, quale sia il modo per diventare più buoni. Solo Dio è buono, risponde il Papa, solo da lui viene l'aiuto. Chiedo al Signore, Signore, che non sia tanto peccatore, che non sia tanto cattivo, che non faccia cattiveria a nessuno, che non abbia gelosie, invidie. Chiedere la grazia di essere buono, perché solo Dio è buono. Tra una risata e l'altra, tra un aneddoto e una confidenza, come il suo sogno da piccolo di diventare un macellaio, Francesco risponde ai pueri cantores toccando anche questioni importanti, come l'eterna lotta tra il bene e il male. Il male che vediamo esplodere nelle guerre in Siria, Ucraina, ma anche quello che si cela dietro una bugia, una cattiveria, un torto. Il male che fa più notizia in tv, che riempie i giornali, mentre il bene di Dio per l'uomo è sempre all'opera e talvolta passa dalle mani silenziose di chi si mette a servizio degli altri. Sembra che piace di più guardare le cose brutte che le cose belle, che le cose grandi. Perché? Perché questo non ha writing, non ha pubblicità. Non ci lasciamo ingannare. Nel mondo ci sono cose brutte, 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 brutte. E questo è il lavoro del diavolo contro Dio. Ma ci sono cose sante, cose sante. Grande cose grande che è l'opera di Dio. Pregare di più, questo è infine il proposito del Papa per il nuovo anno, perché la preghiera è anche un antidoto contro la rabbia che avvelena l'anima. Anch'io mi arrabbio ma non mordo, esclama scherzando Francesco, che poi chiede ai piccoli cantori di imitare Gesù e aiutarlo nell'opera di evangelizzazione del mondo, sempre in cammino, sempre cantando. Grazie.